Il giudice di Pinocchio, con Simona Giannetti, avvocato penalista e radicale con la fissa per lo Stato di diritto. Tra giustizia e ingiustizia, libertà e carcere. Su quello che dicono e che non dicono, nelle aule e sui giornali. Su Senza Barcode. Voi condannerete Enzo Tortora. Undici anni e mezzo prima di avere un giudizio. Questo a me pare assolutamente intollerabile. Indegno di un paese civile. Non erano soltanto e semplicemente dei pentiti. Alcuni erano dei malati mentali. Tutti quanti eravamo un poco, quantomeno scettici. Se dicono la verità, con riscontro si hanno uno scontro. Altrimenti si fanno la stessa galera degli altri. Bisogna individuare elementi esterni del riscontro. Nessun riscontro è stato fatto. Ma non temai! Il nome, il cognome, il soprannome di Enzo Tortora. Si sarebbe accertato che era tortuna e non tortora. Per una non adeguata valutazione delle risultanze processuali, se priva un individuo della libertà personale, si scrive certamente una pagina nera per la testa. succede quello che succede e il soprannome di Enzo Tortora viene arrestato, armanettato e seguito con un profeo di caccia. Ma no, si dice che è bello, l'anno condannato. È una cosa, uno spettacolo anche abbastanza indecente. ma erano, nella stragrande maggioranza, una virgolette colpe con l'esterno. È stato attribuito veramente un esercimento d'anni nei confronti dei magistrati che avevano giustamente accusato e che avevano ingiustamente condannato. Una persona straordinaria che ha voluto combattere una battaglia straordinaria. Come è reagito quando è uscito da carcere dove si era volontariamente arricchitato? Lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi in questo dibattimento. Io sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. Trent'anni dall'arresto La situazione non è cambiata. Era il trailer del film di Crespi per quanto riguarda la storia di Enzo Tortora. Sì, come dice la moglie di Enzo Tortora, la storia a 30 anni non è cambiata. Non è cambiata perché in effetti sono ancora molti i processi che devono aspettare la fase dell'appello per arrivare alla soluzione. Perché Enzo Tortora è stato assolto in grado di appello, non nel primo grado di giudizio. Ha dovuto attendere che si arrivasse al secondo grado di giudizio. Ecco, oggi noi parliamo di quelle che sono le fasi del processo, ma soprattutto delle ragioni per cui quello che possiamo definire il popolismo giudiziario e il popolismo penale che hanno invaso negli ultimi anni, ma forse anche negli ultimi 20 anni a partire da Tangentopoli, dall'aria che è cominciato a tirare successivamente al fallimento della politica che ha dato e ha delegato la giustizia a risolvere quelle che erano le problematiche dei politici, tra virgolette, corrotti. Ecco, quello è stato il momento in cui il popolismo giudiziario ha cominciato a prendere piede. Oggi potremmo dare un titolo a questa puntata e potremmo parlare di prescrizione populista o no? Ecco, noi ci occupiamo della prescrizione oggi. Siamo partiti dalla storia di Enzo Tortora perché la storia di Enzo Tortora era una storia emblematica, una di quelle in cui il processo in grado di appello era necessario. E allora ci dobbiamo chiedere ma perché questo governo con il decreto spazzacorrotti che è entrato in vigore agli inizi di quest'anno nel 2019 e che ha previsto il blocco della prescrizione dal 1 gennaio 2020 dopo la sentenza del primo grado di giudizio vuole di fatto impedire al cittadino imputato o anche alla parte offesa nel caso in cui il processo non finisca per lei favorevolmente di arrivare ad un secondo grado di giudizio e ad avere una sentenza nel secondo grado di giudizio in termini ragionevoli perché la ragionevole durata del processo è poi contenuta nell'articolo 111 della nostra Costituzione. Ecco, perché la norma che è contenuta nel decreto spazzacorrotti che blocca la prescrizione nel processo e quindi blocca in sostanza quello che è il decorrere di un tempo è come se ci fosse una clessidra sul tavolo che mettesse una certa fretta una certa pressione nel giudice questa è la prescrizione nel giudice che deve entro un certo termine portare a compimento il processo se manca questa clessidra o se la clessidra viene fermata al primo grado di giudizio considerato che poi il secondo e il terzo grado quindi l'appello e la cassazione di fatto vengono aboliti ma di diritto rimangono previsti perché comunque sono previsti dalle nostre leggi cosa succede se la clessidra viene fermata al primo grado di giudizio e soprattutto perché lo vogliono fare e dobbiamo guardare un po' sotto il tappeto questo è quello che oggi noi vogliamo fare a giudice di Pinocchio chiediamoci allora quando il Beccaria scriveva nel 1764 apriamo alle isterie e vedremo che le leggi che pur sono o dovrebbero essere patti di uomini liberi non sono state per lo più che lo strumento delle passioni di alcuni pochi o nate da una fortuita o passeggera necessità o dettate da un freddo esaminatore della natura umana Dogana Vecchia ristorante e country house dal 1982 manteniamo viva la tradizione del nostro territorio proponendo inalterate le ricette tipiche di un tempo tramandate da generazioni nell'alta valle del Tevere noi crediamo nell'importanza delle tradizioni della nostra terra e nelle persone che la abitano per questo scegliamo solo prodotti di provenienza locale per offrirvi ricette dai sapori indimenticabili vi aspettiamo in vocabolo Dogana Vecchia a città di Castello 348-649-4794 ora noi ci dobbiamo chiedere se questa legge questa legge sulla prescrizione che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2020 sarà effettivamente una legge una norma dettata dalle passioni di alcuni pochi da un freddo esaminatore della natura umana ebbene sì la risposta la possiamo trovare in un saggio che di recente ha scritto il professor Fiandaca il quale si è occupato di quello che è il populismo penale e il populismo giudiziario esattamente stiamo parlando dell'aria che tira dicevamo che il governo attuale è un governo di matrice pentastellata quindi il governo che prima aveva l'appoggio della Lega oggi è l'appoggio del PD con l'appoggio della Lega il governo pentastellato aveva in appalto la giustizia e con il PD oggi continua a conservarne l'appalto diciamo questo perché dobbiamo dire che è con il precedente governo quello giallo-verde con il quale il decreto spazzacorrotti è stato emesso ma solo attraverso l'intervento in qualche modo sanificatore della Buongiorno si è riusciti a posticipare l'entrata in vigore della prescrizione bloccata con la sentenza di primo grado dal gennaio 2020 solo che ad oggi con il nuovo governo non abbiamo ancora nessuna decisione riguardo alla cancellazione di questa norma norma che viene completamente osteggiata da tutti coloro che abbiano una formazione che guarda allo stato di diritto alla civiltà giuridica alla democrazia liberale a quella che vede il processo come una pena naturalis dell'imputato a quella che vede il processo come il processo all'imputato e non alla vittima perché parliamo di vittima perché il populismo giudiziario è proprio questo ovvero puntare alla pancia del popolo capire che cosa vuole il popolo per quello si parla di populismo e fare in modo che con le norme processuali il popolo venga accontentato e quindi per accontentare il popolo a chi si guarda alle vittime non certo al carnefice il carnefice deve essere sacrificato e qui ritorniamo quindi a quello che è un po' il saggio di Fiandaca ecco Fiandaca distingue il populismo penale dal populismo giudiziario in particolar modo cosa dice che il populismo penale è quella forma di diritto penale che la politica utilizza per trovare il consenso nella chiave della rassicurazione delle paure e quindi come fa inasprisce la sua pretesa punitiva verso il nemico e questo per garantire la sicurezza quindi garantire che in chiave propagandistica il popolo si senta sicuro magari anche creando un nemico nei cui confronti sollevare un certo allarme il più delle volte spesso anche non confortato dai dati è per questo che si creano quindi anche nuove tipologie di reato o modalità di affrontare un certo tipo di reato in chiave in chiave più stretta quindi più particolarmente securitaria come ad esempio abbiamo visto le modifiche che erano intervenute sulla legittima difesa il populismo penale quindi quello che ricorre alla creazione di un nemico nei cui confronti avere paura e quindi nei cui confronti creare una pena una proprietà punitiva particolarmente aspra alla ricerca di consenso puntando l'attenzione su quelle che sono le vittime del reato abbiamo poi a fianco al populismo penale il populismo giudiziario il populismo giudiziario è il populismo penale traslato nelle aule quindi nella fase del giudizio e si ha il populismo giudiziario quando il giudice diventa interprete delle aspettative della giustizia del popolo sulla giustizia quindi cosa vuol dire che il giudice diventa un tribuno diventa in pratica colui che si rivolge direttamente ai cittadini anziché alle leggi quindi in sostanza finisce per far derivare la sua legittimazione non tanto dall'applicazione della legge ma quanto dal suo operato cioè tanto più il suo operato risponderà all'aspettativa dei cittadini tanto più si sentirà legittimato questo è il populismo giudiziario ora la prescrizione è una norma tecnicamente tanto per fare un po' l'avvocato di diritto sostanziale quindi è una norma che è contenuta nel codice penale cosa dice la prescrizione dice che un processo non può terminare entro un determinato periodo di tempo quindi fatto il primo grado fatto l'appello fatto la cassazione se è passato quel determinato periodo di tempo il reato è estinto e quindi l'imputato è libero perché ricordiamoci che come ho detto il processo è una pena naturalis e quindi essere imputato significa avere una condizione di restrizione sia psicologica che anche materiale nella vita per esempio l'imputato ha un certificato se vai in procura a chiederlo che si chiama certificato di carico pendente nei carichi pendenti è indicato il procedimento il tipo di reato a cui una persona è sottoposta se dovesse andare a chiedere un lavoro e viene richiesto il certificato del carico pendente con questo certificato l'imputato potrebbe anche non essere assunto l'imputato con un carico pendente non può neanche adottare l'imputato col carico pendente ha una vita che non è una vita normale è una vita da imputato quindi prima o poi questa vita da imputato deve finire altrimenti avremo l'ergastolo processuale avremo il fine processo mai avremo un imputato a vita del resto dobbiamo anche dire che non è che di questo blocco della prescrizione ne abbiamo proprio tanta necessità e questo lo dico perché l'obiettivo l'obiettivo che poi è anche in teoria abbastanza direi assurdo nel momento in cui si cerca di raggiungere un obiettivo facendo credere che verrebbe raggiunto ma invece al contrario il risultato sarebbe il totale opposto ovvero secondo questo governo a sentire le dichiarazioni del nostro ministro Buonafede con il blocco della prescrizione i processi finiranno in 4 anni viene un po' da sorridere alle parole del ministro Buonafede ma viene da sorridere perché chi calca le aule di un tribunale sa benissimo che quando inizia un procedimento nella fase delle indagini preliminari più delle volte noi abbiamo i dati statistici il 60% dei procedimenti penali viene a prescriversi sul tavolo del pubblico ministero nella fase delle indagini e quindi sfatiamo già il mito che la prescrizione sia uno strumento dell'avvocato Zec Garbugli come ci ha definito il nostro guardasigilli dico C perché faccio parte della categoria dell'avvocatura che utilizzerebbero appunto questo sistema per allungare i termini del processo bene sfatiamo questo mito quando l'avvocato chiede un rinvio se il rinvio è chiesto dalla difesa la prescrizione è sospesa ecco direi che a questo punto su questo una pietra tombale ce la possiamo mettere proprio perché si vuole evitare che il processo venga in qualche modo direzionato dalla difesa per quanto riguarda la questione della tempistica ogni rinvio chiesto dalla difesa è un rinvio per cui c'è la sospensione dei termini della prescrizione questo significa che i giorni di rinvio chiesti dall'avvocato non vanno a essere computati in quelli che servono per la prescrizione in soldoni detto questo la prescrizione quindi scorre e va avanti solo come tempo che serve da prima al pubblico ministero per chiudere le indagini e andare a processo e una volta arrivati a processo al giudice come scadenziario per fissare le udienze nel dibattimento e dopo la sentenza per fissare l'appello dopo la fissazione dell'appello per fissare le udienze in appello dopo la sentenza dell'appello per fissare l'udienza in cassazione e qui l'avvocato nelle fissazioni non c'entra un bel niente a questo punto noi ci dobbiamo chiedere ma perché c'è bisogno di bloccare la prescrizione se il giudice e il pubblico ministero hanno tra le mani la possibilità di mandare avanti il processo entro il termine subito della legge il giudice di fissare le udienze entro questo scadenziario ma noi una risposta ce l'avremo probabilmente perché la giustizia non è in grado di far fronte alla miriade di processi che gli si trovano sul tavolo e quindi anziché occuparsi di un'eventuale valutazione di depenalizzazione di reati minori o di organizzare la giustizia diversamente la soluzione non è diversamente organizzare la giustizia ma è penalizzare i diritti fondamentali dell'imputato e quindi veniamo a un nodo che non è irrelevante e cioè quanto il popolismo giudiziario arrivi al punto di sacrificare i diritti fondamentali per il risparmio delle spese quindi per risparmiare sull'organizzazione dell'amministrazione giudiziale e quindi non andare a spendere in cancellieri in amministratori della giustizia noi dobbiamo andare a sacrificare i diritti fondamentali dell'imputato come? facendo in modo che l'imputato quando ha finito il suo primo grado di giudizio che sia assolto o condannato rimarrà tale sine die come diciamo noi avvocati sine die cioè senza mai più sapere quando potrà chiudere la sua vita da imputato e dunque se si rivolgerà al suo avvocato e gli chiederà scusi avvocato quando se io faccio l'appello adesso che abbiamo fatto la sentenza di primo grado e io sono stato condannato e voglio fare l'appello se io faccio l'appello quanto ci vuole avvocato perché io possa avere una risposta e mirare alla soluzione perché io sono innocente e l'avvocato gli dovrà dire mi dispiace mio caro assistito noi non sappiamo quanto tempo durerà tutta questa vicenda perché il tuo è un processo sine die cioè non sappiamo quale sia la scadenza perché la prescrizione si è interrotta quindi da qui non abbiamo più una fine non abbiamo una linea non abbiamo una linea di confine quindi mi spiace io non so darti una tempistica la risposta dell'imputato quale potrebbe essere certamente c'è l'imputato che pur di avere più di ottenere la sua soluzione dirà all'avvocato no avvocato facciamo l'appello io resterò imputato a vita pur di avere la mia riscossa bene ci sarà anche l'imputato che dirà all'avvocato avvocato io veramente ho anche ho anche 40 anni vorrei diventare padre ho messo in conto di chiedere una adozione quasi quasi io rinuncio mi tengo la mia condanna mi faccio tra tre anni la riabilitazione non appena ho eseguito la pena quando è scaduta la sospensione condizionale chiederò la riabilitazione e quindi potrò nel giro di 47 48 anni poter chiedere la adozione e questo è almeno un punto di certezza perché ricordatevi che quando un processo finisce non è e quando la sentenza è definitiva non è che è finita la vita da imputato poi c'è la vita da condannato perché a questo punto prima o poi la pena se si è condannati va eseguita e quindi se va eseguita bisogna o fare un affidamento o andare in carcere e al termine di questo chiedere la riabilitazione dopo tre anni da quando la pena è completamente estinta solo con la riabilitazione si può ottenere l'estinzione di tutti gli effetti penali della condanna e quindi il cammino è lunghetto detto questo qual è la ragione per cui abbiamo parlato di populismo giudiziario abbiamo parlato di populismo giudiziario perché a chi è attento alle questioni che riguardano la prescrizione non può non sfuggire che a fronte di queste proposte ci possono essere dietro delle idee che sono particolarmente rinviabili ad interventi di una certa magistratura che è la magistratura particolarmente più giustizialista diciamo quella rappresentata lo vediamo anche senza troppa fantasia spesso in televisione da magistrati come per esempio il consigliere del CSM da Vigo il quale dà voce a questa onda di magistratura che pensa che il processo penale non debba necessariamente garantire all'imputato tutti i gradi di giudizio l'imputato non deve necessariamente passare attraverso il primo grado il secondo grado la Cassazione no perché se un imputato è stato condannato magari anche per reati non particolarmente gravi può anche fermarsi al primo grado di giudizio e quindi farsene una ragione non è necessario andare in appello perché a sentir parlare certa magistratura l'appello inonda esclusivamente il tribunale di carte ed è un problema per il tribunale tutta questa carta mentre noi sappiamo che il problema è che il più delle volte nel 50% dei casi la carta che arriva in corte d'appello finisce con una sentenza di assoluzione ecco allora a tutti coloro che sono il nostro ministro guarda sigilli buona fede che ci racconta che il processo penale può finire in quattro anni quando sappiamo benissimo che ne passa almeno un e mezzo sul tavolo del pubblico ministero nella fase delle indagini e poi ne passa un altro anno e mezzo in primo grado e poi ci sono tre mesi regalati a gratis al giudice per fare la sentenza anche se c'è la prescrizione si vanno ad aggiungere i termini di prescrizione e a tutti quelli che non sanno che per i reati diciamo vagamente contenuti di maggiore allarme sociale quindi quelli che sono la violenza sessuale la rapina la corruzione gli atti giudiziari la corruzione in atti giudiziari piuttosto che arriviamo addirittura alle associazioni criminali che si occupano anche di spazi di stupefacenti ecco la prescrizione varia dai 20 ai 40 anni cioè prescrizioni ma proprio a scendere per questi reati arriviamo ai 17 anni maltrattamenti in famiglia siamo a termini di questo genere la bancarotta fraudolenta pure ecco quindi queste tempistiche anche fossero 15 anni ma sono il doppio se non il triplo non è possibile che la nostra amministrazione giudiziaria abbia bisogno di più di 15 anni per chiudere un processo a un imputato e quindi abbia bisogno di interrompere la decorrenza di questi 15 anni perché se no arriva a prescriversi il processo il problema non è dell'imputato il problema è della giustizia e allora perché ci chiediamo perché dobbiamo sacrificare il diritto dell'imputato che potrebbe essere anche un imputato come Enzo Tortora che vuole presentarsi davanti alla corte d'appello e ottenere una volta per tutte la soluzione e quindi e quindi ottenere una sentenza che chiuda la sua vita da imputato condannato ecco perché dobbiamo permettere questo si aggiunga anche ma senza togliere l'importanza che anche l'imputato condannato ha diritto ad avere la fine del processo prima o poi perché se un processo finisce dopo 20-30 anni e l'imputato l'ha iniziato a 19 anni e quando ne ha 49 è già padre di famiglia magari figli anche adulti che senso ha fargli eseguire una pena per un fatto che è stato commesso 30 anni prima perché noi sappiamo che la pena viene eseguita quando la sentenza è definitiva e se si fanno tutti e tre gradi di giudizio viene sospesa e interrotta la prescrizione si potrà arrivare anche a assurdità di questo genere e allora quanto lo Stato ha ancora interesse a far eseguire una pena a un individuo in chiave di rieducazione quando un individuo si sarà già bellamente rieducato da solo nel giro di 30 anni e allora il punto è i diritti fondamentali che sono quelli della ragionevole durata del processo della presunzione di innocenza il diritto alla rieducazione finalitaria educativa della pena perché devono essere schiacciati a fronte di una manchevolezza dell'organizzazione giudiziaria questa è la domanda e purtroppo è una domanda a cui non abbiamo ancora risposta se non che per fortuna ci sono i radicali e gli avvocati penalisti che si stanno mettendo di traverso e quindi con la maratona che ci sarà di seconda stensione degli avvocati penalisti dal 2 al 6 dicembre in piazza Cavour tutti in piazza con Cagliazza per raccontare a tutti che cos'è il delirio della prescrizione interrotta ma soprattutto perché ogni cittadino sappia che il processo non può essere interrotto al primo grado di giudizio perché il 50% almeno delle sentenze di primo grado poi vengono ribaltate in assoluzione in appello e non si può aspettare sine die una sentenza di assoluzione vi saluto e ci vediamo alla prossima il giudice di Pinocchio con Simona Giannetti avvocato penalista e radicale con la fissa per lo stato di diritto tra giustizia e ingiustizia libertà e carcere su quello che dicono e che non dicono nelle aule e sui giornali su Senza Barcode Al prossimo episodio Grazie a tutti.